Accantonato il pareggio nel derby contro il Monopoli, in casa Fidelissandria il pensiero è rivolto alla sfida di domani sul terreno dell'Arturo Valerio Di Melfi. La gara contro il team Lucano, impelagato in zona play-out, è di vitale importanza per la formazione di Luca D'Angelo, che in caso di risultato positivo potrà vivere più serenamente le imminenti festività pasquali, ma soprattutto avvicinerebbe in maniera quasi definitiva l'obiettivo salvezza. Nel pre-gara del giovedì santo a parlare come di consueto Luca D'Angelo, che analizza la prestazione dei suoi ragazzi nel derby contro il Monopoli e invita gli stessi a giocare queste sette restanti gare dando il 100%. La prestazione secondo me dal punto di vista tattico, dal punto di vista della concentrazione e della voglia è stata ottima. Dal punto di vista tecnico abbiamo fatto più fatica perché un po' il campo che non è nelle condizioni migliori, un po' la disposizione del Monopoli che essendo molto stretto e corto negli ultimi 40 metri ci ha costretto a fare parecchi errori dal punto di vista tecnico. Ripeto, però il punto alla fine va bene perché noi partite così in altre circostanze le abbiamo perse. Abbiamo creato quelle 3-4 occasioni per vincerla. Tutti i giornali hanno messo a pista di più 7-7,5 vuol dire che noi le abbiamo messe in grande difficoltà mentre loro non l'hanno mai praticamente tirata in porta. Dovevamo cercare di vincerla, però è importante non perderla. Domani siamo a Melfi contro una squadra che è da prendere con le molle. Sì, quando mancano 7 partite sono tutte gare da giocare alla morte. Noi domani dobbiamo fare punti assolutamente perché ne abbiamo bisogno. La classifica dice che abbiamo 35 punti, però ce ne vogliono di più ancora naturalmente per raggiungere la nostra salvezza. Perciò già da domani dobbiamo cercare assolutamente di fare i punti. Ci sarà turno a aver visto comunque l'impegno ravvicinato? Non lo so, nel senso che i giocatori hanno tutti recuperato la condizione, stanno bene. A parte Piccini e Ferrero che non sono convocati, gli altri possono tutti giocare dall'inizio.